Non ho alcuna intenzione di dimettermi per una questione come il rinnovo dei contratti a tempo determinato dei dipendenti del Comune di Lago Negro. È lapidario il primo cittadino domenico mitidieri dopo le richieste del gruppo di minoranza consigliare guidato da Giovanni Santarsenio intervenuto sulla vicenda. A fa scaldare gli animi la proroga della scadenza dei contratti per i precari del centro valnocino, che sono stati approvati in giunta comunale. Bandolo della matassa, i vincoli di parentela tra alcuni di questi lavoratori e i componenti dell'aggiunta. Lo scorso 23 luglio, infatti, sono stati prorogati i contratti di lavoro e di collaborazione in scadenza di alcuni di questi dipendenti, ma due assessori non hanno partecipato alla votazione per evitare il conflitto di interessi. Dunque erano presenti solo il primo cittadino, il vice sindaco e un assessore. A dicembre, hanno spiegato dal Movimento per Lago Negro, ci sarà la seconda tranche di rinnovi delle scadenze dei contratti e tra questi dipendenti risulta anche la consorte del sindaco mitidieri. In questo caso, secondo il gruppo di opposizione, la giunta non potrebbe raggiungere il numero legale per la votazione. Non ci sarà nessun conflitto di interessi, spiega Mitidieri. I contratti saranno prorogati normalmente. Non si tratta certo di un motivo valido per giustificare una richiesta di dimissioni dalla mia carica di sindaco. La mia amministrazione proseguirà lungo la strada tracciata. Da Per Lago Negro, però, criticano la possibilità di sfruttare la prassi delle porte girevoli, così che il primo cittadino al momento della proroga del contratto della moglie uscirà per far posta un assessore e viceversa. Una pratica che la minoranza condanna apertamente e che non ha intenzione di lasciar correre facendola passare inosservata. I cittadini, concludono dall'opposizione, devono conoscere i dettagli della vicenda e noi li terremo al corrente.